E' una serie di incontri che teremo quartiere per quartiere per raccontare il piano delle periferie ma soprattutto per ascoltare. Sono delle iniziative di informazione ma eminentemente di ascolto. Lo facciamo per il piano delle periferie ma lo allargheremo ad altre prerogative, ad altri scontri perché il nostro interesse è avere la percezione concreta di come viene vissuta la città, di quali sono le problematiche che noi conosciamo per gran parte ma che ci possono essere messe in evidenza dai fruitori, dai cittadini che sono il nostro scopo ultimo. Noi facciamo i consiglieri comunali, i sindaci, gli assessori per svolgere il servizio pubblico e il servizio della cittadinanza.